Allora continua il nostro giro all'interno della fiera di per noi sposi stiamo girando davvero per tutta la fiera e a proposito di girare gli sposi hanno bisogno di qualche mezzo di locomozione per spostarsi da casa arrivare al ristorante e anche arrivare in chiesa e molto spesso scelgono delle auto particolari come la limousine che vedete alle mie spalle che potete trovare alla VIP car ma non solo la limousine voi avete anche delle macchine molto particolari abbiamo anche la Maserati la BMW M6 la Bentley e la X6 quindi parliamo di macchine moderne ma anche macchine antiche anche antiche sì e naturalmente quali secondo voi quali sono gli sposi che scelgono ci sono gli sposi che scelgono in maggioranza la limousine oppure una macchina più semplice avete difficoltà a camminare le strade? Sì un pochettino un pochettino però insomma alla fine è molto bello ma voi all'interno della macchina cosa date agli sposi? diamo la bottiglia di champagne più dove la macchina l'abbiamo avuto addobbata già di fiori il tappeto rosso tutto quello che serve per gli sposi e questi prezzi sono anche accessibili perché ricordiamo che insomma parliamo di macchine davvero importanti? stiamo facendo a 1000 euro stiamo uscendo la limousine la limousine ma ci sono anche altre macchine quindi anche la Rolls? sì no il Bentley il Bentley? la Bentley sì la faccio uscire a 900 a 900 quindi insomma ma si può anche scegliere un'altra macchina un cabrio o qualche altra macchina? abbiamo anche la M6 Cabrio e anche la Maserati il prezzo oscilla la Maserati 800 e la BMW 700 ricordiamo dove vi possiamo trovare? Sant'Agheda Miletello in via incontrata Monici numero 5 e qui invece alla fiera che macchine avete portato così poi adesso noi andiamo e vediamo le macchine che avete portato? abbiamo portato la Maserati, la limousine, la BMW e la Bentley naturalmente quando voi andate, quando gli sposi vengono da voi gli dite dove abitano perché avete anche appunto certo, anzi andiamo a fare anche un piccolo sopralluogo per vedere se la macchina entra, se passa nella strada questo è importante quindi quando andate a scegliere la vostra auto? per la limousine però, solo per la limousine che le altre ci passano? sì sì per le altre ci passano perfetto quindi se volete un'auto particolare prima diteci dove abitate così poi potete scegliere anche la limousine sì sì certo, certamente grazie a Vipcar e noi continuiamo a proposito di auto a girare